Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi nuovo video. Vi ricordo che se avete piacere potete anche seguirmi su Instagram, detto questo, andiamoci dentro col video. Il caso che ho scelto di proporvi oggi mi è sembrato fin da subito un giallo da film e dunque ho scelto di parlarvene. Questo sì che è un caso strano e complicato. Siamo a Roma, è una città particolare quanto bellissima, la puoi dividere in zone, quartieri e isolati e di colpo diventa più piccola. E, alla fine, diventa tante città con il nome di una sola. Siamo alla stazione Ostiense, una stazione secondaria delle ferrovie dello Stato. È il pomeriggio del 12 febbraio 1995 di una fredda e ventosa domenica. Dal cielo scende una leggera pioggia, quasi invisibile. Sul binario 10 della stazione Ostiense, alle 17.25, c'è il treno 12270 che deve portare un uomo a Campoleone per proseguire poi alla volta di Torvajanica. Obliterà il biglietto alle 16.56. Qualcuno vede quel signore distinto avvicinarsi e fermarsi di spalle davanti al treno ancora a porte chiuse per mancanza di personale. Passano i minuti, si fanno le 17. C'è qualche treno in transito che però non si ferma alla stazione. Ormai è buio e la stazione, a parte il rumore dei treni, è silenziosa e, soprattutto, deserta. Non c'è nessuno. O forse qualcuno o qualcosa c'è. In effetti sulla banchina del binario 10 giace una sagoma distesa. A notarla è un agente della Polfer che, avvicinandosi, si rende conto che quello è un uomo di mezza età senza vita. Il corpo è supino, le braccia sono distese lungo il busto, infine le gambe sono incrociate in maniera quasi innaturale. Alla base del cranio c'è una ferita dalla quale è uscita una grande quantità di sangue. Poi c'è una piccola ferita sullo zigomo sinistro che sta sanguinando. Così l'agente della Polfer allerta i colleghi per poi chiamare la squadra mobile, il magistrato e il medico legale. Sono le 18 quando la notizia arriva in redazione al messaggero e il capocronista manda il giornalista Gianfranco Bililotti e un fotografo sul posto per dare un'occhiata. Fabrizio Peronaci, un giornalista del Corriere della Sera, fa altrettanto ma utilizza una Vespa come mezzo di trasporto per arrivare prima. Quando entrambi i giornalisti arrivano al binario 10 alla stazione Ostiense si rendono conto che c'è molta gente. Poi in lontananza vedono il corpo dell'uomo, al centro della banchina. Sul posto ci sono la Polfer, il commissario e la squadra mobile. Il sopralluogo degli agenti permette di individuare alcuni oggetti della vittima. Poco più in là sono presenti i suoi occhiali da vista e una borsa da cui spunta una rivista dal titolo quantomeno curioso, ossia il treno. Dentro alla borsa sono presenti dei volantini dell'agenzia investigativa gestita dai figli per cui la vittima viene subito soprannominata il detective. L'uomo viene identificato attraverso i documenti che gli agenti rinvengono nella sua borsa. Si chiama Duilio Saggia Civitelli, di 53 anni, risiede poco distante dalla stazione Ostiense. In apparenza quello di Duilio sembra un incidente. Infatti il medico legale e il commissario della squadra mobile che si occupano del caso non notano nulla di particolare. Pensano che l'uomo sia morto battendo la testa. Insomma, probabilmente era fermo sulla banchina o forse passeggiava avanti e indietro quando ha avuto un malore improvviso ed è caduto all'indietro battendo la testa. Il contracolpa ha fatto sì che urtasse violentemente anche uno degli zigomi. Nonostante il sangue sull'asfalto, la polizia e i cronisti, quella del binario 10 non sembra la scena di un crimine. È stato un incidente, un brutto incidente. A volte succede. Il corpo dunque è stato identificato e gli investigatori terminano di svolgere i primi accertamenti, ma nessun parente della vittima è ancora giunto in stazione. La prima a sapere la notizia era stata la compagna della vittima, Tiziana Paoletti, che aveva chiamato l'uomo al cellulare senza ottenere risposta. La donna preoccupata era stata poi informata della tragedia. I primi a vedere Duilio senza vita sono però i suoi figli, Fabio e Massimo, titolari dell'omonima agenzia investigativa con sede nell'ex terminal della stazione Ostiense e di alcune giostre nel parco giochi Roma 70. La famiglia rimane sorpresa dal fatto che Duilio possa essere morto per un malore o un infarto, non aveva malattie o problemi cardiaci. Il corpo viene immediatamente trasportato nella camera mortuaria dell'ospedale e i parenti dell'uomo dovranno recarsi lì il giorno seguente per il riconoscimento ufficiale. Qualcuno quello stesso pomeriggio parla di minacce, di sospetti, la gente mormora, Ma i figli smentiscono categoricamente dicendo Minacce, sospetti, con questo lavoro può capitare ma non possiamo dire niente di più. È una materia riservata di cui preferiamo non parlare. Fa parte del nostro segreto professionale. Non ci risulta in ogni modo che papà avesse ricevuto minacce. Le cose non sono andate così. Diranno verso sera prima di subire degli interrogatori fiume da parte della squadra mobile negli uffici della Polfer. Nostro padre ormai non si occupava più dell'ufficio, affermerà Fabio. Svolgeva più che altro il ruolo di coordinatore e ci procurava qualche lavoro, qualche fatto inerente a infedeltà coniugali. Duilio sarebbe morto a causa di un incidente, quindi non c'è nulla su cui indagare. E invece no, c'è da indagare. E come? Il commissario della squadra mobile non è affatto convinto. Insomma, di quell'incidente c'è proprio qualcosa che non quadra. Quindi chiede al medico legale, il professor Rossi, di non indugiare e di eseguire già la mattina successiva l'autopsia. Il commissario aveva ragione. C'è proprio qualcosa che non va. Intanto il figlio si presenta per svolgere le pratiche per la sepoltura del padre e ritirare la salma quando viene fermato da un agente della squadra mobile che gli dice di necessitare di più tempo per condurre ulteriori accertamenti. Così chiedono al ragazzo di ritornare a casa e di aspettare una loro chiamata. Dopo qualche ora si presenta alla porta della famiglia il commissario della squadra mobile della sezione omicidi per riferire che Duilio non è morto a causa di un malore o di un infarto. Gli hanno sparato. Si sono accorti così che Duilio è stato ucciso. Il forellino presente dietro la testa dell'uomo è stato provocato da un colpo di pistola, un proiettile calibro 38 special sparato da una revolver Astra modello Cadix come conferma il perito balistico. Ha esaminato le rigature sul proiettile. Quel proiettile è stato sparato da non meno di un metro di distanza. Conclude il medico legale dopo aver notato che sulla testa del signor Duilio non ci sono le bruciature provocate dalla fiammata che esce dalla canna della pistola. Quel proiettile è di piomo morbido, non rivestito di rame, che quando colpisce una superficie solida si deforma rallentando la propria corsa. È per questo che il signor Duilio riporta una ferita sullo zigomo destro. Il proiettile si è fermato contro l'osso dello zigomo. C'è qualcosa, un elemento in questa storia che fa letteralmente impazzire i giornalisti. Duilio era un detective privato. E se la storia di un detective morto alla stazione di Ostienzi aveva già conquistato ampio spazio sui giornali, l'apertura di un fascicolo per omicidio scatena la vera e propria caccia alla notizia. I giornalisti si chiedono come sia possibile che un uomo sia stato ucciso con un colpo di pistola in una stazione di Roma. Non era mai avvenuto un delitto simile prima. La domanda che a me sorge spontanea è una. Perché? Il signor Duilio, oltre a lavorare come detective privato, chi era? Ebbene, sicuramente un personaggio eclettico, originale e misterioso. Era un rappresentante di elettrodomestici in pensione, aveva aiutato i figli ad aprire un'agenzia di investigazione e ogni tanto collaborava con loro. Ma non è finita qui. L'uomo era un collezionista appassionato proprio di trenini meccanici, tanto da affittare un appartamento per riempirlo di questi oggetti ludici, spesso introvabili. È questa passione che lo porta a frequentare tutti i negozi di modellismo della città. Comprava trenine, rotaie e oggetti scenografici del paesaggio con l'entusiasmo di un ragazzino. Era sposato, ma ormai era praticamente separato dalla moglie, infatti viveva con un'altra donna a Santa Palomba. Il fine settimana Duilio li trascorreva a Roma, in famiglia, con la moglie, i figli e i nipoti, mentre durante la settimana stava con la sua compagna, Tiziana. Chiariamo, sia l'ex moglie che la compagna erano al corrente della situazione. Tiziana e Duilio, secondo la stampa, si erano incontrati proprio grazie ai modelli dei trenini. Tiziana era la moglie di un maresciallo dell'aeronautica che Duilio aveva conosciuto grazie al modellismo ferroviario. Tra i due era scattato il colpo di fulmine, così Tiziana aveva lasciato il marito e chiesto il divorzio. Precedentemente Duilio aveva avuto una lunga storia con una donna molto bella. Sua moglie però rappresentava il punto fermo, era la madre dei suoi figli con cui ogni fine settimana trascorreva del tempo. I giornali descrivono una specie di scandalo. Duilio aveva una doppia vita, aveva due donne, ma non è proprio così. Anche se era separato in casa da anni con sua moglie, aveva semplicemente continuato ad avere buoni rapporti con lei. La polizia cerca quindi di capire se questa situazione possa aver creato qualche problema o rivalità e approfondisce la pista passionale. Il maresciallo tradito, cioè l'ex marito di Tiziana, è sparito e potrebbe avere un movente convincente. Ma, a sorpresa dopo aver disperso le sue tracce, per qualche giorno si presenta spontaneamente in questura. Quell'uomo aveva un alibi. Il signor Duilio era un tipo quasi maniacale, sottolineano le persone che lo conoscevano. Era uno preciso. Nella borsa sul luogo del delitto erano stati rinvenuti anche dei foglietti sparsi, ma, osservandoli, si può intuire che avevano la funzione di una specie di agenda, su cui l'uomo annotava tutto, qualsiasi cosa dovesse fare, o gli capitasse. Ma non è finita qui, perché a quanto pare Duilio aveva proprio un brutto carattere e ogni tanto capitava che litigasse con qualcuno, anche violentemente. Poi, ecco che viene sparato nella giornata di domenica, al binario 10. Non c'è alcun indizio, nessuna traccia, nessun testimone. Al sostituto procuratore che coordina le indagini si presenta un compito molto difficile. Spiega a lui stesso che hanno indagato nell'ambito familiare e personale, per verificare se ci fosse qualche movente inerente alla vita affettiva. Infine, hanno indagato su eventuali motivi d'affari. La polizia a questo punto esamina un foglio trovato nella borsa del signor Duilio, pieno di nomi, indirizzi e numeri di telefono. La polizia tiene sotto controllo tutti per almeno sei mesi, compresa la compagna del signor Duilio. È l'ex marito di questa, ma non emerge nulla. La polizia filma anche i funerali del signor Duilio, alla ricerca di qualche traccia. Su alcune delle persone controllate esegue anche il test dello stub, che serve a rilevare tracce di polvere da sparo sulle mani, ma anche in questo caso non emerge niente. Il resto è un giallo. Un mistero. Duilio non lavorava da diversi anni e gli inquirenti, indagando sulla sua vita, si rendono conto che hanno dinanzi a loro un uomo dal passato poco decifrabile, se non a grandi linee. Almeno dieci anni prima aveva lavorato come rappresentante di elettrodomestici, poi aveva accumulato una discreta somma che gli aveva consentito di acquistare alcuni immobili e di mettere da parte un bel gruzzolo. Il punto è che nessuno sa o vuole riferire il modo in cui Duilio abbia conseguito questa fortuna. Gli inquirenti stimano, tra contanti, bot, depositi azionari e immobili, un patrimonio di circa 1 miliardo e 800 milioni del vecchio conio. Ma per i figli del signor Duilio non c'è nessun mistero a riguardo. Spiegano che il padre aveva iniziato a lavorare a 18 anni come rappresentante per una ditta tedesca di elettrodomestici, poi si era messo in proprio e poi era andato in pensione. Aveva un grande senso per riaffare il signor Duilio. Infatti aveva fatto fruttare la liquidazione, investito in immobili e poi giocato in borsa. Inoltre Duilio era un uomo che i soldi li teneva quasi tutti per sé, dandone davvero pochi sia alla moglie che alla sua compagna. Così l'uomo era diventato ricco. Tutte le storie sulla provenienza misteriosa dei soldi del signor Duilio, sottolineano i figli, sono soltanto invenzioni dei giornali, così come la storia dell'assicurazione sulla vita da 8 miliardi, riportata su alcuni articoli di giornale e smentita perché falsa. Quella dei soldi, però, è una pista che gli inquirenti non abbandonano e ora si concentrano sull'usura. Infatti si è scoperto che il signor Duilio aveva concesso dei prestiti a tassi che, peraltro, non risultavano usurari. In ogni caso, quelli ormai erano rapporti tutti esauriti. Duilio comunque aveva affrontato dei guai giudiziari in relazione a dei prestiti di denaro. In un caso era stato assolto e nell'altro non vi era molto di più. È vero, prestava dei soldi, ma occasionalmente è a tassi molto inferiori di quelli degli usurai. Inoltre, al momento del suo assassino, Duilio non aveva molti clienti, o almeno così risulta dalle indagini. Emerge però una lite giudiziaria con una donna che non aveva restituito dei soldi, aveva dunque un debito nei confronti di Duilio e il processo era previsto per le settimane successive. La polizia cerca la donna, vuole saperne di più, ma lei non si trova, è sparita. Due giorni dopo si scopre che alla donna non serve più un alibi perché è morta anche lei. Nessun processo per usura, nessuna luce in fondo al tunnel, un'altra pista che si rivela cieca. Forse bisogna soffermarsi sul mestiere più recente del signor Duilio, quello di investigatore privato. Possedeva tre pistole e spesso girava armato. Duilio aiutava i figli a mandare avanti un'agenzia di investigazione privata. Seguiva, quando aveva voglia e tempo, alcune questioni matrimoniali. Lo avranno ucciso per questo perché aveva scoperto qualche dettaglio di troppo? Oppure lo hanno ospitato al binario 10 e ucciso per un movente passionale? La pista dell'agenzia investigativa non porta a nessun risultato, anche perché Duilio non era un detective, i suoi figli lo sono. Lui dava una mano ogni tanto e, più che altro, pubblicizzava l'agenzia, lasciava volantini in giro e compiti del genere. Resta il fatto che l'unica sede dell'agenzia fosse proprio lì, a pochi passi dalla scena del delitto. È altrettanto strano che la famiglia non riesca a indirizzare in alcun modo la squadra mobile. A questo punto si avvalora la pista familiare. Non si esclude che possa essere stata l'eredità, un oggetto di contesa. Quindi si tengono d'occhio i figli che, inizialmente, sono abbastanza spaventati. Ma, anche in questo caso, la pista decade. C'è da dire che quest'uomo ogni tanto aveva una strana fantasia, quasi da romanzo o da film, oserei dire. Duilio, per impressionare le donne, diceva di far parte dei servizi segreti, di aver partecipato a una missione in Africa e di avere un numero telefonico riservato che lo metteva direttamente in contatto con un ufficio segreto dei servizi. Ma non era vero. Duilio non era 007. Duilio era un signore di mezza età con la passione per i soldi, le donne e i trenini. Un uomo che appuntava maniacalmente tutto su dei fogli, anche quando fare le coccole al suo cagnolino di nome Blu. La domanda, però, resta invariata. Chi l'ha ucciso? Torniamo a quel 12 febbraio, quel pomeriggio freddo e ventoso. Torniamo alla stazione Ostiense, perché tutto inizia proprio da lì. Tutta la vita del signor Duilio gravitava proprio intorno alla stazione Ostiense. Spesso andava alla stazione per parlare con i macchinisti dei modelli dei treni, oppure semplicemente per vedere i treni passare. Molti in stazione si ricordano di lui, del signor Duilio, di quell'uomo che coltivava il suo hobby con l'entusiasmo di un ragazzino. Inoltre, Duilio abitava con la moglie nella via di fronte alla ferrovia. Come già detto, quella domenica di febbraio alla fermata c'era poca gente. In realtà, tutte le domeniche era così, quindi si organizzavano anche meno turni di sorveglianza da parte della Polfer. Ogni domenica il signor Duilio prendeva quel treno a quell'ora. Dunque, a colpirlo deve essere stato qualcuno che conosceva molto bene le sue abitudini, oppure le aveva studiate appositamente. C'è però un altro punto da chiarire. Il signor Duilio era stato colpito con un revolver Astra Cadix calibro 38 Special, un grosso calibro, che produce un buato assordante. E, anche se la stazione era deserta, siamo in città. Perché nessuno ha sentito il colpo? È davvero improbabile. Prima di scoprire l'arma del delitto, infatti, si pensava che il colpo fosse stato sparato da un'arma silenziata. Ma l'Astra Cadix non si può silenziare efficacemente. Quindi, come ha fatto l'assassino a non farsi sentire? Avrà usato un silenziatore costruito apposta per quella pistola o un rudimentale cuscinetto imbottito. La scelta del luogo, la stazione, del giorno, dell'ora, dell'arma e poi delle tecniche per silenziare lo sparo confermano che chi ha ucciso il signor Duilio è uno che se ne intende, un professionista. Chi ha agito è arrivato come un'ombra ed è sparito come un'ombra. Inizialmente di questo caso se ne parla quotidianamente, poi una volta alla settimana e alla fine, dato che non emergono nuovi dettagli, diventa un caso irrisolto. Il caso di Duilio Saggio Civitelli viene archiviato. Duilio è stato capace di vivere una vita a compartimenti stagni, con una piena soddisfazione a tutto tondo. Aveva una vita sentimentale piena, con la moglie da una parte e accompagna dall'altra, riusciva benissimo negli affari, aveva un sacco di soldi e un sacco di case. Si divertiva come un bambino nel passare delle ore rinchiuso in casa a mettere insieme stazioni ferroviarie su plastici con i trenini. Arriva il 2019, passano 24 anni dall'omicidio e nessuno spunto investigativo vino alla luce. Qualcuno però non ha mai smesso di cercare la verità. Massimo Saggio Civitelli, il figlio di Duilio, non ha mai smesso di indagare sulla morte del padre. Massimo indaga su casi di omicidio recenti e meno recenti. Scopre che in un triangolo tra Trastevere, Ostiense e Testaccio si sono verificati tre episodi di vittime colpite da un proiettile da una certa distanza, in un contesto inspiegabile. A Ostiense, come sappiamo, a essere stato colpito è Duilio, il padre di Massimo. Gli episodi apparentemente collegati sono quello di una suora, ossia suorpiera, che viene colpita da una revolverata il 29 aprile 2011 a Trastevere, per motivi mai spiegati. Quello del paparazzo Daniele Lopresti, del 27 febbraio 2013, a Testaccio. Tutti e tre sono stati freddati con un solo colpo di pistola alla testa. Inoltre, non emerge alcun movente. Infine, i fatti sono avvenuti in una zona abbastanza circoscritta, in pieno giorno, quasi a emulare il delitto perfetto. Il punto è che non ci sono prove della teoria di Massimo, sembra solo una suggestione, ma da qualche parte bisogna ripartire. Ci sono sospetti, ipotesi, ma nessuna nuova prova emerge, neanche da questa pista. Nessuna risposta per la morte di un uomo, quell'uomo che forse nessuno ha mai conosciuto davvero. Poi, ecco che arriviamo al 2020, quando si intravede uno spiraglio di luce dopo 25 anni di buio. Grazie all'insistente lavoro di ricerca del giornalista e scrittore Fabrizio Peronacci, a distanza di un quarto di secolo, è spuntato fuori l'identikit del possibile assassino di Duilio Saggia Civitelli. Come descrive lo stesso Peronacci, si tratta di un uomo dal viso regolare, attorno ai 45 anni, altro 1,75 m, corporatura robusta, carnagione olivastra, capelli brizzolati. A tracciarne la descrizione, è un tassista, G.F. L'uomo oggi ha 71 anni e vive nella provincia di Avellino. Peronacci però va oltre la costruzione dell'identikit del possibile assassino. Attraverso la testimonianza del tassista, lo scrittore disegna una mappa della fuga. La meta finale è via Mercalli, quartiere Parioli. Peronacci riporta le parole testuali del tassista, ovvero Il passeggero all'altezza dell'Aventino mi ha soltanto detto che via Mercalli avrei dovuto imboccarla da via Bertoloni, percorrendo poi via Bosovic, al cui angolo con via Mercalli sarebbe sceso. Quindi io ho fatto via Veneto, via Paesiello per giungere in via Bertoloni. Appena giunto all'angolo tra via Bosovic in via Mercalli, prima che io girassi per quest'ultima strada, lo stesso mi ha chiesto di fermarmi all'angolo. L'uomo è agitato. Durante il viaggio, racconta sempre il tassista, controllo spesso la borsa di tela rossa, con la scritta Q8, che, salendo sul salire di dietro, avevo notato la portava a tracolla. Se l'era messa sotto braccio, tenendola stretta, come se ci tenesse, e spesso ci sbirciava dentro, come per controllare che tutto fosse a posto. La corsa costa 14.400 lire, il sospettato paga con una banconota da 10.000, e una da 5.000, senza chiedere il resto, evidentemente va di fretta. Si dilegua così l'unico indiziato per l'assassinio di Duilio Saggia Civitelli. Un caso archiviato, nonostante il tassista abbia fornito alla polizia una descrizione accurata, tenuta nascosta in un cassetto per 25 anni. Un caso archiviato, ma che ora potrebbe riaprirsi. Per adesso, come in ogni buon romanzo poliziesco che si rispetti, la morte di Duilio, appassionato di trenini in miniatura, che trova la morte proprio aspettandone uno di quelli veri, dopo 25 anni di luci e ombre, merita un finale con la rivelazione del nome dell'assassino. Detto questo ragazzi, ho finito di parlare in questo video, spero ovviamente che questo video possa essere stato di vostro interesse. Fatemi sapere cosa ne pensate di questo caso qui sotto, come al solito noi ci becchiamo nei commenti, perché io questo caso l'ho trovato un vero e proprio giallo, quasi da film, davvero, quasi da romanzo. Fatemi sapere quindi voi che cosa ne pensate. Io nel frattempo vi mando un bacione, e noi ci vediamo prestissimo al prossimo video. Mi raccomando, fate i bravi, continuate a mangiare le verdure che continuano a far bene, ma soprattutto prendetevi cura di voi e fate ciò che vi rende felici. Basta che non facciate nulla di criminale. Ciao a tutti!